Oggi 23 luglio, guardare dove sono, 23 luglio 2021, guardare dove sono, guardare, guardare alle cascate del Torreggio, Torreggio, che belle, sono tre, uno, due e tre, eccole qua che si vedono bene, meraviglia della meraviglia, sono qua da solo dopo una bella camminata nel paese di Torre di Santa Maria, che belle, uno, due, tre, quattro sono, quattro, e queste cascate le hanno fatto dopo l'alluvione nel 1987, quando in quell'anno successe un alluvione così forte, mi ricordo in luglio che gran parte della Lombardia venne colpita e qui fu ricostruita con queste stupende cascate di Torreggio, guardare, ma sono cinque, non tre, cinque, vado fino all'ultima cascata in alto, è una cosa eccezionale oggi, mi trovo qua e ricordo amici espoltatori di Youtube, sono prima del paese di chiesa San Malenico, guardare che bello cielo, che belle montagne, favoloso, favoloso oggi, vediamo se c'è qualche bacchetta indicativa che può indicarmi altri sentieri, ecco questa è la vallata, mi è piaciuto veramente, eccolo qua una bacchetta indicativa, eccola, il paese Torre di Santa Maria, dieci minuti, poi là si va, a Ciappanico, Piasci e Rifugio Bosio, benissimo, a Piasci 2 ore 20 non vado, Ciappanico, che nome strano, a 20 minuti vado e Rifugio Bosio non ce la faccio, però non vedo se c'è scritto 6 ore 30 o 30 minuti, vado a Ciappanico, il paese sovrastante a Torre di Santa Maria, ma guardare da qua la prospettiva che meraviglia, non sono 4, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una più bella dell'altra, mai nessuno ha scoperto questo, vi faccio lo zoom, nessuno mai ha scoperto questo posto così attraente, solo Aldo e c'è il modo anche per lavarsi i piedi, per fare la frescura, ma veramente ringrazio col signore che ho conosciuto ieri, un signore che abita a Monza che mi ha detto di venire qua perché è un posto che nessuno lo sa, ma devo dire che oggi il viandante, il girovago è contentissimo di avere questo ambiente naturalistico, occhio che non mi cada il cellulare, ecco, ecco qui, bello, 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 non ho parole, non ho parole, guardate qua la prospettiva, non ho più parole.